I istituti scolastici in città sono in totale abbandono. La manutenzione nelle scuole è un'oasi nel deserto per la città di Siracusa. Locali scolastici in cui regna il totale abbandono, nessuna programmazione, la messa in sicurezza, se così si può dire, anche temporanea, salta, e nessuno che si premura di risolvere il problema. Bambini che rischiano e genitori preoccupati. Non servirà a dire andate a scuola in bici, ma serve dire a scuola tutto è in regola. Eppure il sindaco ha fatto qualche intervento che se state per chiedere la messa in sicurezza di immobili privati lo ha fatto per farsi bello? Perché non guarda la trave che è nel suo occhio, invece di indicare la pagliuzza che sta nell'occhio degli altri, o meglio perché non le guarda entrambe. Lo stato dei fatti nella scuola di Via Augusta è veramente sconcertante. Più genitori mi hanno contattato per segnalarmi un problema grave e segnalare la totale assenza di un piano adeguato di messa a norma della struttura, afferma l'ex consigliere Castagnino. Poche parole che descrivono una situazione che va denunciata. L'assenza di occhi vigili sul territorio acutizza il beneficismo della Giunta. Nessun atto è stato prodotto da chi amministra, ma è ovvio l'atto non porterebbe nessuna passerella perché il sindaco non va a farsi un giro tra gli edifici scolastici invece di fare passerella con megafono in mano senza risolvere mai un problema. Questo afferma l'ex consigliere comunale, Salvo Castagnino. Grazie. 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 Grazie.